La città è avversa in un degrado forse mai visto fino ad oggi. C'è tanto da fare, c'è tanto da fare. Nessuno riesce a investire i soldi dei cittadini per ricoprire le bughe. È immaginabile pensare che il decoro urbano sia portato avanti dai ragazzi di Salvaguardiamo Bracciano. È vergognoso! Basta, noi vogliamo la normalità. Le persone oggi vogliono un sindaco normale che scende dalla stanza dei bottoni e cammina a piedi in mezzo alle persone. Un sindaco che si attorna di una giunta specializzata di professionisti, ma che abbia alle sue spalle 16 consiglieri che amano la città, che si rimboccano le maniche. Perché Bracciano merita rispetto!